Grazie a tutti. Il tema nostro è quello dell'utopia. L'utopia in rapporto al rinascimento. Il primo problema da aver presente per chiarirsi questo tema è che il rinascimento, a differenza di quelle che sono state in genere le interpretazioni correnti, è stata un'epoca essenzialmente di crisi. È un'epoca profondamente tragica per molti aspetti, come cercherò di argomentare. A lungo è stato pensato come un'epoca di equilibrio, di armonie, come un'epoca di contrasti risolti, mentre invece il rinascimento è stata un'epoca profondamente segnata dal tema della crisi, dal tema dell'apocalisse, dal tema appunto dell'utopia in un rapporto complicato con il disincanto. Ma su questo cercherò di essere più chiaro. Quando parliamo di utopie, naturalmente nel rinascimento esistono molte utopie, utopie specifiche, la città del suolo di Campanella, la città ideale di Leonardo, la città felice di Patrizzi. Ci sono molti modelli propriamente utopici. Anche lo spaccio di Giordano Bruno può essere considerato una sorta di utopia, un modello utopico di vivere civile e religioso. Quello che a me invece preme dire però è che l'utopia è un predicato generale di questa cultura, non soltanto di alcuni testi specificamente dedicati all'utopia, ma che questa epoca è fortemente proiettata in generale nella dimensione dell'utopia. Però questa dimensione dell'utopia, e questo è un tratto preciso della cultura rinascimentale, è continuamente in tensione con un altro elemento che è tipico di questa cultura, che è quello del disincanto. Quella rinascimentale è un'epoca del disincanto e al tempo stesso dell'utopia, ed è, nella sua generalità, una grande epoca di crisi, di crisi in tante dell'Italia. L'epoca del rinascimento, dell'umanesimo, gli ultimi anni del 400, i primi anni del 500, sono un'epoca appunto di profonda crisi dell'Italia. Quindi disincanto e utopia in un'epoca di crisi. Lo verifichiamo anche se andiamo a vedere la diffusione molto forte in questo periodo di motivi profetici ed apocalittici. Noi siamo abituati a pensare al rinascimento come un'epoca senza religione, come un'epoca mondana in qualche modo. Non è così. La cultura rinascimentale, soprattutto alla fine del 400, basta pensare per fare un nome a Savonarola, è profondamente intrisa di motivi religiosi, profetici, apocalittici, dalla spinta, in qualche modo, alla ricerca di un mondo nuovo. È quello che si chiama appunto il tema della renovazio. Anche questo è un grande tema utopico. Il tema della renovazio, il tema della rinascenza, il tema appunto di un nuovo mondo che si può costruire muovendo dalla crisi. Appunto, citavo prima lo spaccio di Bruno e da questo punto di vista è un testo assolutamente esemplare. Ma come ho detto, questo tema dell'utopia germina sul tema del disincanto. Se noi pigliamo i grandi autori del Rinascimento, Machiavelli, Guicciardini, Bruno, Alberti, sono tutti grandi pensatori del disincanto. E quando dico disincanto intendo dire sono pensatori che battono sul carattere tragico della vita dell'uomo, sul carattere tragico dell'esistenza umana. Lo vediamo in Machiavelli. Machiavelli quando parla dell'uomo ne parla come di uccelli da rapina. Oppure se voi leggete un testo poco noto di Machiavelli, ma straordinario, che si chiama appunto i Gribizzi al Soderino, Machiavelli rappresenta appunto un quadro estremamente limitativo e profondamente drammatico della condizione umana. La domanda da cui muove Machiavelli, lo dico rapidamente, è questa. Perché dice lo stesso uomo comportandosi allo stesso modo in situazioni differenti una volta ha successo, nell'altra volta fallisce. Come mai, dice appunto, un grande condottiero utilizzando le stesse arti, le stesse tecniche, una volta riesce a conseguire un grande risultato ed altre volte viene invece sconfitto? Perché, come dire, la garanzia della vittoria, la possibilità della vittoria, non è data solo dalla virtù dell'uomo, il quale è virtuoso allo stesso modo nelle diverse situazioni. ma è data invece dalla situazione specifica in cui l'uomo si truove, dalla fortuna che è l'altro vincolo, diciamo, del vivere dell'uomo. Allora, dice Machiavelli, si potrebbe dire che l'uomo virtuoso, vivendo in situazioni diverse, può mutare se stesso a seconda della situazione. Cioè, l'uomo rendendosi conto che non è più il caso di una guerra di movimento, ma invece il caso di una guerra di statica, di una guerra di posizione, come direbbe Gramsci, il grande condottiere potrebbe, come dire, cambiare in qualche modo se stesso, abituarsi alla nuova situazione. E Machiavelli dice che questo è assolutamente impossibile, perché l'uomo non è in grado di cambiare se stesso, dice, l'uomo non è in grado di nominare le stelle, l'uomo non è in grado di vedere al di là del proprio naso. Il vivere dell'uomo e anche il successo dell'uomo è interamente inciso dalla situazione nella quale si dà. E la natura dell'uomo è profondamente statica e profondamente limitata e non è in grado, come dire, di trasformarsi nelle diverse situazioni. Cambiano i tempi, cambia la fortuna, cambia la situazione, ma l'uomo resta sempre uguale a se stesso, non può cambiare carattere. Qual è, da questo punto di vista, dice Machiavelli, la forza delle repubbliche rispetto a quelle del regno? che il re è sempre lo stesso, non può cambiare, e se cambia la situazione c'è una catastrofe. Invece la Repubblica può disporre di uomini diversi. La Repubblica Romana disponeva di Fabio Massimo Temporeggiatore, che gli era utile quando era necessario temporeggiare, ma anche di Scipione l'Africano, che fu in grado di fare invece una guerra di movimento. Ma erano due uomini diversi, perché l'uomo in quanto tale è legato come un peso, come dire, inesauribile, come un peso da cui non si può liberare, alla propria natura. La natura è qualcosa di pesante, di statico, che vincola l'uomo. Quindi non un quadro positivo dell'uomo. Ma se voi andate a leggere Leon Battista Alberti, vi trovate in una stessa posizione. Alberti ripiglia un bellissimo verso di Pindaro, lo rovescia, e dice che l'uomo è ombra di sogno. Pindaro aveva detto sogno di un'ombra. Lui dice che l'uomo è ombra di sogno, per dire che è totalmente inconsistente, che è totalmente dominato dal limite, che è totalmente dominato dalla natura. Appunto è un'ombra di sogno nella sua inconsistenza. Se voi prendete un test di Alberti, come per esempio il Theogenius, che consiglio agli amici più giovani, avete appunto questa rappresentazione estremamente tragica dell'uomo, contrapposta addirittura alle bestie. Grande motivo della cultura moderna, da Alberti fino a Montaigne, fino a Charron, il rapporto fra uom-bestie, in cui le bestie sembrano avere un destino migliore di quello dell'uomo. L'uomo, dice Alberti, basta il morso di uno scorpione, può morire via discorrendo, per significare proprio l'estrema debolezza dell'uomo, l'estrema precarietà dell'uomo, e della fragilità dell'uomo. L'uomo vive, dice Alberti, vive di sogni, vive di utopie, vive appunto di fantasie, all'interno delle quali riesce a trovare un punto di realizzazione, ma nella sua concretezza di uomo è appunto ombra di sogno, niente più che ombra di sogno. Se voi vi date Guicciardini, vi trovate di fronte a un autore altrettanto tragico, e noi siamo abituati a pensare appunto a Guicciardini come all'autore del particolare, come dice appunto Francesco De Santis, l'uomo che pensa solamente al suo particolare, al suo interesse via discorrendo. Mentre invece, se voi leggete i ricordi, vi trovate di fronte a un pensatore straordinario il quale ha il senso profondo di un mondo completamente rovesciato. Il mondo di Guicciardini è un mondo capovolto, nel quale non c'è nessun rapporto fra merito e virtù, non c'è nessun rapporto fra ricompensa e merito. L'uomo è, come dire, in balia di un mondo senza senso, di un mondo totalmente rovesciato, in cui, dice Guicciardini, è impossibile vedere la traccia di un Dio che sia un Dio buono, un Dio giusto, un Dio che, come dire, ricompensa i meritevoli e punisce i calpevoli. Dice appunto Guicciardini, il mondo è abissus multa, che appunto il Salmo, il testo del salmista, dice, è un pur abisso nel quale l'uomo non è in grado di riuscire a vedere la traccia di nessuna giustizia. Il mondo è totalmente capovolto, totalmente rovesciato, nel senso che il merito non viene riconosciuto e la colpa, in qualche modo, viene potenziata e valorizzata. Sono temi della tradizione cristiana, sono i temi di Giobbe, sono i temi su cui lavora Paolo di Tarso, dando ad essi una risposta in termini cristiani. Ecco, quindi, come vedete, in Machiavelli, come in Guicciardini, come in Alberti, la concezione dell'uomo è profondamente critica e drammatica. Noi, in genere, non cogliamo questo dato perché siamo spinti da una tradizione a pensare che, come dire, il tratto fondamentale di quell'epoca sia l'umanissimo. Ma le cose non stanno così. Machiavelli non è un umanista, Guicciardini non è un umanista, nemmeno Bruno è un umanista. Grazie. 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 Grazie.